La violenza domestica prende molte forme Prendere a cazzotti Strattolare Lanciare oggetti Pretendere prestazioni sessuali quando una persona non desidera averne Insultare, svoluire, offendere Non permettere alla compagna di avere amici Isolarla dalla famiglia Negare accesso alla macchina o al telefono Il controllo economico Sappi che abbiamo tutti delle alternative alla violenza Se hai bisogno di aiuto, noi possiamo aiutarti Il nostro obiettivo è arrivare prima Finora siamo stati quelli che arrivano dopo Dopo i pugni stretti E dopo gli occhi chiusi Dopo le urla e le bocche tappate Dopo le umiliazioni e le reazioni Dopo l'impotenza e l'onipotenza Dopo gli ospedali, le denunce, gli avvocati, gli arresti Addirittura dopo il carcere E a volte dopo la morte Vorremmo provare ad arrivare un po' prima Almeno in tempo per aiutarti a riconoscere che la sua paura E anche la tua paura Di sentirti disprezzato Abbandonato Di sentirti in balia del mondo Ancora una volta Solo 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 Se hai bisogno di aiuto Noi possiamo aiutarti Chiama Chiama